Guarda tu che c'è in mezzo a Fantazoo, venite a trovare la nostra mascotte Leo, iscrizione gratuita, addirittura insegnanti madrelingua, qualificati, e qui magari Grottaferata, Squarcerelli, e qui magari si paga pure meno dei 10.000 errotti euro che il comune di Fraschetti spende per ogni bambino nei suoi asili nido. Asilo nido e scuola per l'infanzia. Andremo a chiedere quanto si paga.